e buongiorno a tutti finalmente è arrivato il mobile ma le sue condizioni non sono perfette adesso ve la faccio vedere guardate qua immagino le vostre facce no dai ti prego ecco ragazzi condizioni di questo mobile qua e questo c'è anche zucchero niente mettiamoci a lavorare va a tutti si Grazie a tutti. 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 Un goccino anche di questo detersivo qua. Grazie a tutti. 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 Ragazzi ho provato questa spugnata qua. Sapete questa qua? Stressante perché qua non riuscivo a tirarla via. Ho guardato con questo se graffio il mobile, non graffio. E allora niente, tira via benissimo questa spugnata qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso sto chiamando questo almeno. Eh, Lina non ha sfregato. Mette lo suio giusto, però è grande. Visto? poi da prognarvi qua un pochettino poi così 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 faccio lo tempo ma per forza era appoggiato a l'ho e e e e e e e e ora e a valente e Non era così. Aspetta che mi lavo le mani perché... Ah, là! Ah, lo vuoi girare anche questo? Eh, questo non puoi girare perché vedi che c'è il poso lì. Lo devo appoggiare. Questo qua lo mettiamo. Così. Questo così basta. Che così lo pulisco da qua. Aspetta. No, 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 vedi? Oh, ci pesci. Ma ci pesci io questo? Ecco. No, no, no. Ci pesci. Un po' di acqua. No, non, no. Sce un po' di acqua. ragazzi il mio video di oggi finisce qua e noi ci vediamo domani ciao ciao a tutti ciao